Nell'era dell'Internet of Things anche e soprattutto il mondo dell'informazione si aggiorna. Per gli uffici stampa e chi si occupa di PR diventa strategico sfruttare queste nuove tecnologie e non perdersi nei molteplici canali comunicativi di cui disponiamo. L'ufficio stampa è cambiato, si parla di nuove competenze e di nuove professioni digitali, oggi parliamo di una nuova comunicazione, questo il motto di Francesca Anzalone, PR manager e fondatrice di NetLife. Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere qui al seminario di ufficio stampa e digital PR che si tiene oggi a mestre, dedicato appunto all'aggiornamento di queste competenze di figure professionali legate al digitale e alle nuove forme di comunicazione legate al web. Sì, parliamo di una trasformazione digitale che coinvolge tutti i settori del mercato e che naturalmente ha una necessità di divulgazione con nuove metodologie, nuove strategie e con nuovi strumenti di cui oggi disponiamo appunto dai social network, alle pre-serie digitali, a tutti quegli strumenti, mailing list, liste di distribuzione e quant'altro che ogni giorno possiamo utilizzare nella nostra attività di ufficio stampa. Tanti mezzi di comunicazione, dunque comunicare diventa più semplice o più complicato? Allora, assolutamente la comunicazione oggi è cambiata, nel senso che tutti noi siamo chiamati a comunicare, ad informarci, a contribuire, ad arricchire la comunicazione e l'informazione. Naturalmente la comunicazione è molto più articolata, ha una serie di canali a disposizione ulteriori e necessita sicuramente di nuove competenze che devono essere aggiornate, per cui più complicata dal punto di vista dell'aggiornamento delle competenze professionali, ma soprattutto molto molto più utile, più efficace, più distribuita e globale. E dunque la necessità è quella dell'organizzazione, soprattutto per i professionisti? Allora, assolutamente sì, l'organizzazione è uno dei punti che abbiamo trattato questa mattina e che naturalmente è fondamentale. Oggi non lavoriamo più singolarmente, ma ci inseriamo all'interno di un network e per cui dobbiamo collaborare, collaborative working in primis, team building e soprattutto organizzare, mappare tutte le informazioni e metterle in relazione. Questo è uno degli aspetti fondamentali del nuovo professionista digitale, che deve essere consapevole di tutta la visione ed insieme che abbiamo a disposizione nell'ambito dei contenuti e delle informazioni. Un seminario che è arrivato alla nona edizione, per cui appunto se qualche anno fa c'era bisogno di entrare in questo nuovo mondo, si conferma comunque la necessità da parte dei professionisti di approfondire questi contenuti, che comunque sono sempre nuovi. Assolutamente sì, a volte mi stupisco di quanto sia ancora necessario questo tipo di seminario, che naturalmente si è aggiornato nell'arco degli anni attraverso gli strumenti, attraverso l'uso dei social, sono cambiate determinate dinamiche, ma i professionisti, giornalisti, imprenditori, agenzie di comunicazione, studenti che vogliono intraprendere questa professione sono sempre assolutamente interessati a questo argomento e hanno sempre bisogno di contribuire e accrescere alla loro formazione. Io solitamente sono una fautrice del long life learning, nel senso che non si finisce mai di imparare e ogni anno bisogna aggiornare le proprie competenze, perché nonostante io faccia questo lavoro da vent'anni, credo che ci sia assolutamente da imparare attraverso questa evoluzione dei sistemi e degli strumenti digitali in continuazione. Appunto abbiamo parlato di questa nona edizione, ma c'è anche una novità per tutti i professionisti del settore, perché tra poco uscirà anche il libro dedicato proprio a queste tematiche. Assolutamente sì, uscirà il 12 maggio in tutte le librerie e si intitola appunto Ufficio Stampa e Digital PR, la nuova comunicazione ed è un libro di Edito Epli dedicato proprio a tutta l'attività dell'ufficio stampa, che cosa bisogna saper fare, che cosa è necessario strutturare dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle informazioni, quali sono tutte le opportunità che i social ci mettono a disposizione, ma soprattutto questa nuova figura del PR manager, anche Digital PR, che diventa, si evolve anche in questa figura di Digital PR, deve affrontare dal punto di vista di un aggiornamento delle competenze e soprattutto degli strumenti che avrà a disposizione. Per concludere, qualche tag, qualche parola chiave per i nostri spettatori? Allora, se parliamo di Ufficio Stampa e Digital PR, quello che io cerco sempre di condividere con gli ascoltatori è accuratezza nell'informazione, fact checking, verificate sempre qualsiasi tipo di informazione prima di prenderla come buona e come reale, condividete la conoscenza perché questa è un'opportunità, utilizzate le ricerche in internet a fini assolutamente positivi e non sostituite mai quelle che sono le ricerche internet con un professionista, dal mondo della salute al mondo delle competenze digitali, al non si impara solo attraverso le ricerche online, ma attenzione, fidatevi sempre dei professionisti.